abbiamo fatto eh una bella pulizia oggi eh eh si è da 40 anni che non ci puliscono qua ora prendiamo un po' d'acqua qua per sicurezza perché come si dice eh la prudenza non è mai troppo bravo così almeno quando andiamo a casa andiamo a casa tranquilli e la prossima volta almeno continuiamo senza senza finire i tibotti i lavori altro che pulizia radicale che viene dopo viene una pulizia che neanche da cent'anni e va bene dai anche oggi un bel colpo di mano ciao matti andiamo avanti